Stiamo svalicando, abbiamo passato il basso sella, io e Adriano, sono medici, situazioni meteorologiche avverse, nevica a bomba, siamo col fiorino, senza catene, ma con le gomme cinesi e noi abbiamo seminato tutte le macchine dietro, adesso ve le faccio vedere, panoramica dietro, mi aspettiamo, non c'è più nessuno, eccole là, ma noi continuiamo a andare lo stesso, macchina a 50 mila Euro, fiorino, ci sono dei quota da 100 mila Euro piantati e noi continuiamo a andare, signori, è un vero delirio, ciao a tutti, medici!